Una piazza senza luce da molti giorni nonostante le numerose segnalazioni da parte dei cittadini accade a Grumo Appula in piazza De Vito Francesco dove da più di due settimane la pubblica illuminazione è fuori uso e la gente nelle ore serali non si sente più al sicuro, buio pesto ma a quanto pare anche sporcizia e degrado. Abbiamo fatto diverse segnalazioni anche tramite Facebook, i canali social network, però non abbiamo avuto soprattutto nell'ultimo periodo nessun riscontro.